Dio usa le difficoltà nella nostra vita per legarci a Lui, ma l'obiettivo, fratelli e sorelle, della preghiera non è tanto essere liberati, non è tanto che il problema non c'è più, che io vivo bene, che io sto bene. L'obiettivo è di avere un incontro rinnovato con Dio, perché Lui solo conosce il nostro cuore e ci dà la vera gioia, la vera felicità, la vera libertà. E il mondo questo non lo dice, anzi, preghi, si vede che sei un uomo debole. Ti rivolgi a Dio, si vede che non hai nessun altro aiuto, sei abbandonato, sei solo, credi ancora a queste cose. Noi veniamo da Lui, cari amici, e a Lui ritorniamo e Lui è sempre con noi. Allora accogliamo queste parole di Gesù, accogliamo la sfida, persevera nella preghiera.